Il Delfino Mi diceva che voleva andare in Francia, dal Delfino, per farlo incoronare. Gli abitanti della città ne comprarono un vestito maschile, dei gambari, dei calzari e tutto ciò che ne serviva. Io e Jacques Alain ne comprammo un cavallo a nostre spese e diceva non è forse una leggenda secondo la quale la Francia sarebbe perduta da una donna e riscattata da una vergine.